Questa canzone non l'ha scritta la Compagnia dell'Anello, l'ha scritta Ciro Maschio, che è il capo dei nostri giovani di Verona, ma noi l'abbiamo riarrangiata perché è dedicata a un grande uomo, a Nicola Pasetto. Grazie a tutti. Dove vai? Dove stai correndo? Forse dove è già il tuo cuore? Basta un attimo e ciò che stai vivendo, prende il volo e muore. Dove sei adesso? Lassù dove pensavi? Da lì dirai, ragazzi state svegli. Ma c'è un modo solo, non morire mai, e quel modo è vivere davvero. Ma c'è un modo solo, e questo tu lo sai, e da devi quello sguardo fiero. Ma c'è un modo solo, non morire mai, e quel modo è vivere davvero. Come fare adesso? Senza quel tuo sguardo, sguardo dito, di chi sogna e crede. Io, non so che fare, io non so che fare. Io non so che fare, potrei non dimenticare, perché c'è caldo. Adesso lui vive, ma c'è un modo solo, e questo tu lo sai, e da devi quello sguardo fiero. Io, non so che fare, io non so che fare, non provo più dolore, con il tuo sorriso, chiuso nel mio cuore. Io, non so che fare, io non so che fare, non smetto di sognare, e non ci potranno più fermare. Io, non so che fare, io non so che fare. Grazie Nicola. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Pidola! Pidola! Pidola!